Siamo ad Alessandra in Piazzetta della Lega, molta gente per le invasioni barbariche, Daniela Tusa, attrice, regista, un sacco di cose, di cosa si tratta? Cos'è questa iniziativa? Invasioni barbariche è un progetto che mette insieme diverse utenze delle comunità e centri di urni dell'Alessandrina insieme alle scuole elementari per lavorare sul concetto di inclusione principalmente e poi per permettere a delle realtà che solitamente non si incontrano di farlo in questa grande festa che oggi inizierà tra poco alle 16.30. Teatro terapeutico, teatro di inclusione, teatro benedico? Non è terapeutico già di per sé, poi ecco l'esperienza che insegna e diventa molto istituzionale da questo punto di vista. Poi non si fanno miracoli con il teatro ma sicuramente si dà una grande occasione per incontrarsi, per guardarsi, per riconoscerti.